Bentornati sul mio canale o se siete nuovi benvenuti, io sono Scesi e come ogni venerdì dal mio salotto vi racconto una storia di true crime, mistero o paranormale. Se questo tipo di video può interessarvi ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Prima di cominciare volevo ringraziarvi di nuovo perché siamo arrivati a 200 iscritti, anzi li abbiamo superati di brutto, ormai siamo sui 260 circa adesso che sto registrando e quindi niente, volevo ringraziarvi perché comunque per me è una grande soddisfazione, ripeto per me fare tutto da sola non è facile, però vedendo che vi piace, vedendo i vostri commenti trovo lo stimolo per continuare. Quindi ancora una volta grazie e adesso non indugiamo oltre e iniziamo con la storia di oggi. Oggi ci troviamo a Houston in Texas, sono le 8.24 del mattino dell'8 agosto del 1973 e la polizia del quartiere di Pasadena riceve una chiamata dal 2020 di Lamar Drive e dall'altra parte del telefono un ragazzo di nome Wayne Henley di 17 anni dice all'operatrice telefonica Velma Lines di recarsi immediatamente all'indirizzo che gli aveva fornito perché aveva appena ucciso un uomo. Gli agenti quindi accorrono subito sul luogo e trovano Henley insieme ad altri due ragazzi, Corder Kerley di 19 anni e Rhonda Williams di 15. Tutti e tre erano seduti sul marciapiedi davanti alla casa e sul vialetto trovarono una pistola, una calibro 22. Ma non appena entrarono nell'abitazione trovarono una scena assurda. Il padrone di casa Dean Corl era nudo e crivellato di colpi di pistola senza vita nel corridoio. Quindi la situazione era già molto strana, trovare il padrone di casa nudo, senza vita e i ragazzini sconvolti e in più perquisendo la casa un tavolo delle torture in tutto e per tutto, una tavola di legno con delle manette, dei sex toys e tutte cose che facevano pensare a delle torture sessuali. Dunque la polizia porta i ragazzi alla centrale e li interroga pensando che fossero tutti e tre vittime di Corl. Ma Henley farà una confessione che lascerà tutti sbigottiti e increduli. Il ragazzo infatti confessa di aver aiutato negli anni Dean Corl ad adescare, torturare, violentare ed uccidere giovani ragazzi, tutto per la cifra di 200 dollari a persona. Inizialmente la polizia era scettica, non credeva alla confessione di Henley, ma dovette cambiare idea quando il ragazzo fece il nome di tre giovani che erano scomparsi da un po' di tempo e ne indicò anche il luogo della sepoltura. Dunque non c'erano più dubbi, Henley era il complice di un uomo malato, di uno spietato serial killer, ma come era arrivato quindi a togliergli la vita? Per capirlo dobbiamo fare un bel passone indietro e vedere chi era effettivamente Dean Corl. Dean Arnold Corl nacque il 24 dicembre del 1939 a Fort Wayne nell'Indiana. Era il primo figlio di Edwin Corl, per l'appunto, e Mary Robinson. Nel 1942 poi nacque suo fratello Stanley. Non si sa moltissimo della sua giovanità, in senso si sa soltanto che i genitori litigavano molto spesso e infatti nel 1946 divorziarono e in seguito a questo divorzio Mary si trasferì a Memphis in Tennessee. Dean era conosciuto come un bambino serio e molto timido che ogni tanto comunque socializzava con i compagni e si preoccupava del loro benessere. Nel 1950 gli fu diagnosticata una febbre reumatica. È un'infezione alla gola dovuta a un tipo specifico di streptococco che può portare diversi sintomi, tra cui appunto la febbre, l'artrite, stanchezza, dolori addominali e addirittura nei casi più gravi può esserci un'infiammazione al cuore. Per questo motivo fu totalmente esonerato da educazione fisica. Intorno a quel periodo i genitori di Dean cercarono di riconciliarsi e si spostarono quindi a Pasadena. Inizialmente andava tutto bene, ma poi nel 1953 ci fu un secondo divorzio. Mary ottenne la custodia dei figli ed in seguito si risposò con un uomo di nome Jake West, con cui si trasferì a Vidor, sempre in Texas, e nel 1955 diedero alla luce la loro figlia Joyce. Qualche tempo dopo aprirono anche una pasticceria. Dean intanto andò alla scuola superiore di Vidor, era conosciuto come uno studente con una buona condotta, si interessò anche alla musica e infatti suonava il trombone nella banda della scuola. Nel 1958 prese poi il diploma. La famiglia quindi, una volta che Dean si diplomò, decise di trasferirsi a Houston e di aprire lì un negozio di dolciumi, il Peckham Prince, e ovviamente sia Dean che il fratello Stanley davano una mano alla conduzione familiare. Nel 1960, per volere di sua madre, Dean si spostò per un paio d'anni nell'indiana casa di sua nonna che era da poco rimasta vedova. Dopodiché tornò a Houston per continuare ad aiutare nella gestione dell'attività di famiglia. Nel 1963, per Mary, arrivò il terzo divorzio anche da Jake West. Decise quindi con i suoi due figli di aprire un negozio di dolciumi tutto loro, che prese il nome di Carl Candy Company. Tutto iniziò benissimo, procedeva a gonfie vele, finché arrivò il primo campanello d'allarme, che ovviamente fu totalmente ignorato. Un impiegato del locale, infatti, disse alla mamma di Dean che il figlio gli aveva fatto delle avance sessuali. La donna però non gli credette assolutamente e il tutto si concluse con il licenziamento del giovane e la mamma di Dean che gli diceva di aver frainteso completamente la situazione. Il 10 agosto del 1964 Dean entrò nell'esercito e venne trasferito a Fort Polk in Louisiana per l'addestramento. Successivamente venne trasferito a Fort Benning in Georgia e dopodiché a Fort Hood in Texas come riparatore radio. Dean odiava il servizio militare e si affaticava molto facilmente. Infatti dopo sulle 10 mesi, l'11 giugno del 1965, lascia l'esercito e torna a Houston. Una volta tornato diventa vicepresidente della Carl Candy Company e inizia ad ingraziarsi alcuni ragazzini e bambini regalando loro dei dolciumi a detta sua per promuovere la sua attività. Nel 1967 conobbe per la prima volta David Owen Brooks, un ragazzino di 12 anni a cui oltre che dolciumi regalava anche soldi. David con il passare del tempo iniziava a vedere Dean come una figura paterna e dava molto retta a ciò che gli diceva, addirittura lo convinse a prostituirsi, facendogli credere che ciò che stava facendo non era affatto sbagliato. La madre di Dean tentò un nuovo matrimonio ma anche questo non andò a buon fine e nel 1968 si spostò con la figlia Joyce in Colorado. Lei e Dean non si vedranno più però si sentiranno solo ogni tanto al telefono. Nello stesso periodo la Carl Candy Company chiuse i battenti e Dean quindi dovette trovare un altro impiego. Trova un posto fisso come elettricista alla Lighting and Power Company e nell'inverno del 1971 fu proprio David Brooks a presentare a Dean Carl un ragazzo di nome Wayne Henley, lo stesso ragazzo che poi l'8 agosto del 1973 chiamerà la polizia. Inizialmente lo scopo di Dean era quello di uccidere Henley, soltanto che gli piacque molto e quindi gli propose un patto. Se Henley gli avesse portato degli schiavi sessuali, per ogni persona Dean gli avrebbe dato 200 dollari ed inizialmente Henley non accettò la cosa e tornò soltanto dopo qualche mese da Dean accettando per il semplice fatto che aveva bisogno di soldi sia per lui che per la sua famiglia. Gli omicidi di Dean Carl furono in seguito definiti come omicidi di massa di Houston e iniziarono il 25 settembre del 1970 e terminarono il 3 agosto del 1973. Tuttavia si pensa che Dean abbia ucciso anche prima del 1970. Infatti nel 1968, quando ancora era vicepresidente della Carl Candy Company, alcuni suoi colleghi lo hanno visto scavare delle buche e quando gli hanno chiesto cosa stai facendo, lui rispose che stava seppellendo delle caramelle che ormai erano scadute per evitare una contaminazione da insetti. Sulle buche poi versò del cemento e sinceramente mi sembra leggermente esagerato per delle caramelle, quindi boh. In ogni caso appunto gli omicidi accertati partono dal 25 settembre del 1970. Le sue vittime avevano tutte dai 13 ai 20 anni e molto spesso erano delle amiche dei complici di Dean. Il modus operandi era sempre lo stesso, venivano attirate in casa con qualche scusa, che sia una festa, che sia bere una birra, venivano drogate appunto o stordite con l'alcol, spogliate, legate al letto di Dean oppure al tavolo delle torture, per poi essere violentate e subire torture di ogni tipo ed infine essere uccise tramite strangolamento oppure con una pistola calibro 22. Ma non sempre le vittime morivano subito, perché ogni tanto Dean teneva per qualche giorno la vittima in vita e addirittura la costringeva a chiamare o a scrivere lettere ai genitori per fargli sapere che stava bene e fargli stare tranquilli. Per quanto riguarda invece l'occultamento dei corpi, venivano prima spogliati e poi avvolti in dei sacchi di plastica e dopodiché sotterrati in diversi punti della zona. E come ogni buon serial killer, anche Dean teneva un souvenir delle vittime, molto spesso erano dei mazzi di chiavi. La prima vittima fu Jeffrey Alan Conan di 18 anni, un ragazzo autostoppista che appunto stava facendo autostop nei pressi di West Hamer Road per tornare a casa dai genitori. Dean appunto gli offrì un passaggio, lo fece salire in auto, lo spogliò, lo violentò e dopodiché lo strangolò a mani nude. Da prassi avvolse il suo corpo in un sacco di plastica e dopodiché lo seppellì. Ora, David Corle uccise un sacco, un sacco, un sacco di ragazzi. Non starò ad elencarli tutti, perché sono veramente tanti. Elencherò quelli, diciamo, più importanti per il corso della storia. Quindi arriviamo al pomeriggio del 29 maggio del 1971, in cui Dean attirò e uccise due ragazzi. Scusate la pronuncia, ma giuro che non so come si pronunci, quindi se sbaglio perdonatemi. David Hillegist di 14 anni e Gregory Malley Winkle di 16 anni. Nel mese di marzo commise anche un ulteriore omicidio, che era quello di Ruben Wilford Watson, sempre di 17 anni. I parenti dei ragazzi stamparono dei volantini e li distribuirono per tutta la città, offrendo una ricompensa a chiunque avesse trovato i loro figli. Addirittura Henley partecipò alla distribuzione di questi volantini, cercando di rassicurare una delle madri dei ragazzi, dicendoli che non era niente di grave e che sarebbero tornati sani e salvi. Questa donna invece era preoccupatissima della loro sparizione, nonostante anche la polizia ipotizzasse che era semplicemente una bravata da ragazzi. Secondo la polizia, che aveva preso come al solito tutto alla leggera, i ragazzi erano semplicemente scappati di casa. La donna invece era convinta che fossero stati rapiti, questo perché il figlio non sarebbe mai scappato di casa in costume da bagno e con soltanto 80 centesimi in tasca. Il ragazzo infatti quel pomeriggio si stava recando in piscina e come darle torto dove vorresti andare con un costume da bagno 80 centesimi? Tuttavia i ragazzi non vennero trovati fino a quando Henley non confesserà appunto alla polizia dove si troveranno i corpi. Il 24 marzo del 1972 Dean, David e Henley attirarono un ragazzo di nome Frank Anthony Aguirre di 18 anni che stava uscendo dal ristorante in cui lavorava. Quindi lui finisce il turno di lavoro, esce e si ritrova a sti tre che gli chiedono, hey vuoi venire a bere una birra con noi e fumarti una cannetta? Il ragazzo accettò e una volta arrivati a casa di Dean, mentre era sotto effetto delle sostanze, Dean lo ammanettò. In quel momento Henley se ne andò per non so quale ragione, non era specificato, per poi tornare in un secondo momento e trovare appunto il ragazzo già morto. Dean stesso gli dirà poi che l'aveva stuprato e poi strangolato. Henley a quel punto non fece altro che aiutare David e Dean a seppellire il corpo. E una piccola nota da dire è che Aguirre era il fidanzato di Rhonda Williams, proprio la ragazza che troveremo poi più avanti nella storia, la stessa che era con Henley la mattina in cui chiamò la polizia. Il 20 aprile del 1972 rapirono Mark Scott, un ragazzo di 17 anni. Dean però ebbe delle difficoltà a legarlo al tavolo delle torture e riuscì a liberarsi e prese un coltello per puntarlo addosso agli aggressori, soltanto che Henley in quel momento tirò fuori la pistola e lo fece arrendere immediatamente, quindi venne rilegato al tavolo delle torture, violentato, torturato e poi strangolato. Henley però quando venne appunto arrestato dirà che quel ragazzo non era Mark Scott e quindi probabilmente il ragazzo è ancora disperso là fuori chissà dove, magari seppellito da qualche parte. Nel maggio del 72 rapirono Billy Ridinger, un ragazzo di 19 anni. Come al solito fu legato al tavolo delle torture e torturato e violentato da Dean. In quel momento però David disse a Dean di non ucciderlo. Ovviamente fu inutile, però questo non fece che far arrabbiare Dean. Infatti più avanti Henley sturdirà David in qualche modo, con qualcosa in testa e quando si risveglierà sarà legato al tavolo delle torture lui stesso e verrà violentato da Dean che voleva fargliela pagare. Nonostante tutto questo rimarrà suo complice. Veramente non capisco. Il 20 gennaio del 1973 a Dean cambiò appartamento e ci fu un periodo in cui non commise omicidi. Questo perché soffriva di idrocele che era un accumulo di liquido trasparente nello scroto dovuto a un'infiammazione dei testicoli. Karma Dean. Nel frattempo Henley iniziò un po' a preoccuparsi perché gli omicidi che stavano commettendo erano veramente uno dietro l'altro ed erano tantissimi. Iniziava infatti un po' a farsela addosso ecco. Il primo febbraio del 73 sparì Joseph Allen Lyles, sempre di 17 anni. Il suo corpo verrà poi ritrovato nell'agosto dello stesso anno a Jefferson County Beach. Il fatto che si è stato Dean a ucciderlo però non fu mai accertato ma è molto molto probabile che sia stato lui perché viveva nella stessa via del ragazzo e il ragazzo stesso era stato avvistato entrare nella casa di Dean svariate volte. David e Henley però quel giorno non erano presenti quindi non poterono testimoniare e dire sì effettivamente è stato lui o non è stato lui ma dissero che in quel periodo effettivamente Dean aveva rapito e ucciso un ragazzo da solo. L'Iles fu identificato l'11 novembre del 2009 con l'analisi del DNA. Un giorno due testimoni, una coppia in macchina, videro appunto il trio che stava seppellendo dei fagotti, non so effettivamente in che zona non l'ho trovato. E una volta avvistati Henley si avvicinò alla macchina e li fece praticamente scappare perché aveva un'espressione abbastanza minacciosa in faccia. E non si sa se in quel momento stavano seppellendo una vittima conosciuta o sconosciuta. Gli amicidi continuarono comunque senza sosta e il giorno 3 agosto del 1973 Dean rapì un tredicenne di nome James Dreymala. Il ragazzino si era comprato una pizza ed era in bicicletta e stava vagando per Sud e Houston. Lo attirarono con la scusa di invitarlo a una festa e una volta arrivato a casa di Dean, come al solito, fu legato al tavolo delle torture, violentato, torturato e poi strangolato e poi ovviamente seppellito. Arriviamo quindi alla fatidica ultima sera di vita di Dean Corle. Era la sera del 7 agosto del 1973 ed Henley invitò Corder Kerley, di 19 anni, ad una festa a casa di Dean. David Brooks quella sera non era presente, non ho trovato il perché, ma non c'era comunque. Quindi Kerley e Henley andarono a casa di Dean, presero delle sostanze e dopodiché uscirono per andare a comprare dei sandwich. Henley poi passò a casa di Rhonda Williams, appunto di 15 anni, che era una ragazza orfana di madre e il padre era un ubriacone ed era pure violento, quindi figuratevi che bellezza. Avevano appena avuto una discussione e quindi Henley li chiese se volesse aggiungersi al gruppo e andare a casa di Dean a festeggiare. Lei accettò e tutti e tre insieme si deressero verso casa di Dean al 20-20 di Lamar Drive. Arrivarono all'incirca verso le 3 del mattino e subito Dean andò da Henley e gli disse perché hai invitato una ragazza e hai rovinato tutto. Henley però riuscì a calmarlo dicendo appunto che Rhonda era stata aggredita dal padre ubriaco e quindi sembrava che tutto si fosse calmato. Iniziarono a festeggiare, a bere e a fumare. Dopo ben due ore di festa si addormentarono. Dopo qualche ora Henley si svegliò e con sua grande sorpresa era legato e non solo lui, anche Carly e Rhonda erano legati, però dormivano ancora. Dean era furioso e iniziò a urlare a Henley di tutto dicendo che voleva ammazzarli. Quindi prese la pistola calibro 22 e la puntò sullo stomaco di Henley. Il ragazzo però riuscì a calmarlo in qualche modo, non so cosa gli disse ma ci riuscì, e lo convinse anche a farsi slegare. Dopo averlo slegato però Dean prese la pistola, andò in bagno e la nascose. Intanto Henley stava legando Carly e Rhonda al tavolo delle torture e poi iniziò a spogliarli tagliandoli i vestiti con un coltello da caccia. Nel frattempo si spogliò anche Dean e iniziò a torturare Carly che in quel momento ovviamente si svegliò di soprassalto. A questo punto Henley chiese a Dean di poter portare Rhonda in un'altra stanza, però Dean non lo stava ascoltando perché stava tentando in vano di violentare Carly. Quindi con questo momento di distrazione di Corl, Henley andò in bagno, prese la pistola, la puntò verso Dean e gli disse ti sei spinto fin troppo oltre. Quindi Dean si fermò e iniziò ad avvicinarsi lentamente a Henley. Gli intimava di sparargli pensando che non l'avrebbe comunque mai fatto, però Henley indietreggiò e iniziò a sparare e prima di riuscire ad atterrarlo fino a fargli perdere la vita, gli ci vollero sei colpi di pistola. Finalmente Dean Corl crollò a terra senza vita e questo ci riporta all'inizio della nostra storia. Henley chiama la polizia, arrivano sul posto, trovano i ragazzi sul marciapiete eccetera. La polizia quindi intanto stava anche perquisendo la casa di Dean e trovano il pavimento coperto con un telo di plastica già pronto lì in modo da non sporcare niente di sangue e trovarono poi altre cose molto inquietanti tra cui appunto il tavolo delle torture, manette, sex toys, coltello da caccia, la pistola, della vaselina e una radio che amplificava le urla. Non ho capito neanche io bene questa cosa, cioè i vicini non sentivano scusate. Trovarono poi il furgone di Dean e nel retro del furgone trovarono una scatola con dei fori per far passare l'aria ma non soltanto perché faceva passare dentro anche degli aculei. Praticamente Dean si era costruito da solo una vergine di Norimberga che era uno strumento di tortura. Sempre sul retro del furgone c'erano i vetri oscurati con delle tende blu in modo che nessuno potesse vedere all'interno e poi trovarono dei ganci e delle manette. Henley si offrì di accompagnare la polizia nella rimessa per le barche di sud-west Houston. Lì trovarono subito una bicicletta, un'autorubata e una scatola contenente tantissimi vestiti. Iniziarono quindi a scavare perché quello era il punto in cui Henley diceva che avevano seppellito alcuni corpi e da questi scavi vennero fuori ben otto cadaveri, tutti quanti appunto avvolti in teli di plastica e uccisi tramite strangolamento o colpo di pistola. Presentavano un sacco di segni di tortura ed erano sodomizzati, legati e castrati e ad altri aveva inserito nell'uretra una fiala in vetro che poi aveva spezzato e io non immagino neanche il dolore, non lo voglio sapere. Vennero trovate anche alcune borse di plastica contenenti dei genitali tagliati e masticati. Per quanto riguarda invece David Brooks si costituì la sera stessa dell'8 agosto confessando di essere a conoscenza che Dean avesse ucciso dei ragazzi. Il giorno dopo Henley portò la polizia al lago di Sam Rayburn. Lì vennero trovati altri due corpi e poi nella rimessa per le barche ne vennero trovati altri nove. Il 10 agosto furono recuperati altri due corpi ed esattamente come i due rinvenuti il giorno prima presentavano delle percosse sia alla testa che sul corpo. Il 13 agosto invece Henley e David accompagnarono la polizia a High Island Beach dove vennero rinvenuti altri quattro cadaveri. Alcuni di loro erano castrati e avevano persino i peli pubici strappati e ad alcuni addirittura Dean strappò il pene a morsi. I due infine confessarono che Corl aveva commesso in tutto ben 29 omicidi ma riuscirono a verbalizzare e a recuperare soltanto 27 omicidi. Il 28esimo corpo sarà poi ritrovato nell'agosto del 1983 e dopodiché le ricerche si interruppero. Fino all'aprile del 1974 riuscirono a identificare 21 ragazzi. Altri due furono identificati nel settembre del 1983 e nel luglio del 1985. Tutti gli altri furono identificati col tempo e l'ultimo fu identificato nell'aprile del 2011. Henley finì a processo con l'accusa per sei omicidi mentre Brooks inizialmente fu accusato di quattro ma finì a processo con l'accusa soltanto per un omicidio e la cosa veramente no, no proprio no. Henley inoltre non fu accusato dell'omicidio di Dean Corl, questo perché si trattava di autodifesa. Per i due comunque ci furono due processi separati, non fu un processo unico. Il primo ad essere processato fu Henley, il primo di luglio del 1974. Contro di lui testimoniano dozzine di persone, tra cui anche Kerley e Rhonda. E al processo parteciparono anche i parenti delle vittime. Quando il medico iniziò ad elincare tutte le torture subite dalle vittime, piano piano la sala praticamente si svuotò perché veramente era troppo. Lo stato aveva con sé ben 82 prove contro Henley, tra cui una scatola contenente i capelli di una delle vittime. Il 16 luglio del 1974 fu condannato a scontare 99 anni di reclusione per ognuno dei sei omicidi, per un totale di 594 anni di carcere. E la condanna fu poi confermata nell'appello del 1979. In carcere Henley passa il tempo a dipingere e i suoi quadri vengono messi in esposizione e in vendita su ebay e questo ha scatenato davvero l'indignazione dei parenti di tutte le vittime che ha causato. Il processo di David Brooks invece iniziò il 27 febbraio del 1975. Come ho detto inizialmente gli vennero attribuiti quattro omicidi ma poi salì a processo soltanto per un omicidio e l'avvocato della difesa, Jim Skelton, chiese la soluzione per David Brooks professandolo innocente. Il processo durò una settimana e finalmente il 4 marzo del 1975, dopo una delibera di 90 minuti, la giuria lo riconobbe colpevole dell'omicidio di Billy Ray Lawrence e lo condannò al carcere a vita. Anche lui ricorse in appello ma nel maggio del 1979 la sentenza fu riconfermata. Ogni tre anni sia David sia Henley hanno fatto richiesta per la libertà condizionata ma ogni volta viene rispinta. Per quanto riguarda il funerale di Dean Corll fu organizzato dal padre Edwin ed erano presenti lui, la nonna di Dean e la madre Mary. Dean Corll è tutt'oggi seppellito al Grandview Memorial Park a Pasadena. E ragazzi miei questo è stato veramente un caso pesante da raccontare, cioè ci sono state davvero tantissime vittime e io le ho lette tutte. Inizialmente volevo metterle tutte quante nel video ma veniva una cosa veramente veramente pesante. Quindi ho preferito un po' alleggerire soprattutto perché il modus operandi era sempre lo stesso e quindi pensare che ognuna di quelle persone ha ricevuto le stesse torture raggela il sangue. Comunque questo è tutto ciò che ho trovato su questo caso. Come al solito fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti qua sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi le prossime storie. Se vi fa piacere seguitemi anche sugli altri social, vi lascio i link qua sotto in descrizione e noi ci rivediamo venerdì prossimo con un nuovo caso.